I complimenti non bastano a portare punti in classifica? No, si accettano come faccio i complimenti alla Fragolese, un'ottima squadra, partita con ambizione, ma il Gladiator ha giocato da Gladiator, in questo momento prendiamo meno di quello che meritiamo, perché dopo dieci minuti se stavamo 2-0, palo e tiro di poco fuori non avevamo rubato nulla, poi al primo errore stiamo facendo un po' troppi, abbiamo fatto rigore, secondo il mio avviso, una palla innocua, esterna, e poi alla prima azione, al primo cross prendiamo anche il 2-0. Prendiamo quello con troppa facilità, una squadra che fa nove gol in quattro gare, voglio dire ne vince solo una, c'è da chiedersi il perché.